Siamo in collegamento dal pesce azzurro, pesce azzurro di Fano in questo caso, ma saremo in collegamento poi da tutti i pesce azzurro della costa adriatica, della riviera Romagnola, per parlare della trasmissione Pesce Azzurro Show. Ne parliamo intervistando, diciamo, una dei dipendenti del pesce azzurro. Ecco, mi sono precipitata, mi sono precipitata, avevo sentito il dipendente del pesce azzurro, mi sono precipitata, mi sento che a fare. No, siamo qui per parlare a tutti i marchigiani, perché ci rivolgiamo a tutti i marchigiani, ma anche a Romagnola. Saranno almeno 1.000-2.000 tutti i marchigiani. Marchigiani sono un po' di più, 1.000-2.000, 4.000, quanti saranno i marchigianelli? 4.000 saranno gli abitanti di un quartiere della città, dove abita lei? Al Poderino, un quartiere molto molto servito nella città di Fano, molto molto servito. Ho capito, ma il pesce azzurro che è nato a Fano, però nel frattempo ha aperto tutti quanti i punti pesci azzurri in tutte le marche, da partire da San Benedetto del Tronto. E San Benedetto del Tronto? E San Benedetto del Tronto come? Ma in Sicilia, San Benedetto. Dove nasce? In Tunisia. Il fiume Tronto dove sfocia? Il fiume Tronto dove sfocia? Tronto? Nel Metauro, no, nel Metauro. Il Tronto sfocia. Il Tronto, il Tronto. Il Tronto, San Benedetto del Tronto. Il Tronto, eh, il Tronto. Sfocia a San Benedetto. Questo di fatto non so dirla c. Infatti sento. Troncio, troncio. Troncio, come dici troncio, io dico troncio. Ma come dici troncio? Troncio, io dico troncio. Quindi lei si direbbe San Benedetto del... Troncio. Ma no, che si è offendo. Qui si è offendo. Ma che tonno? Senta. Il pesce azzurro quest'estate ce l'ha l'alimento nuovo dell'estate. Qual è l'alimento nuovo dell'estate? La patata disidratata. La patata disidratata. Ma che è l'alimento nuovo? Ce l'ha il pesce azzurro. La patata disidratata. Dattata. Disidratata. Patata. Te lo sai dire? Disidratata. È l'uovo alimento dell'estate. La patata disidratata. Molto, molto. Quanto fa bene quella patata disidratata. Mangiatela tutti, fa molto bene. Volevo dire. Sapete perché? Perché vi idratta. Vi idratta la patata disidratata. Io volevo spiegare come funziona la trasmissione. Dai, dai. Le posso dire? Sono otto puntate che iniziano martedì. Tutti i martedì alle 8.30 su Tele 2000. Alle 8.30 su Tele 2000. Ogni volta andremo a scoprire delle meraviglie del mare Adriatico. Patatone disidratate. Andiamo a scoprire delle meraviglie del mare Adriatico. Andremo a vedere la pesca d'altura. Sì, certo. La cultura della patata. Andremo a vedere. Andremo a pescare con una vongolare. Ecco, delle belle patatone, qualcosa come le vongolone. Ma signora, andremo anche a San Benedetto poi a un certo punto. Anche a San Benedetto. Anche ad Ascoli andremo? Di Piccino. Di Piccino. Ma andremo anche a Cattolica, all'acquario di Cattolica. Sì, la roba. Ma io mi piace il tempo. Ma come? Ma venga. Venga che le faccio vedere. Le faccio venire, ma sei sicuro? Partiamo martedì alle 8.30. Partiamo martedì, dai. È un gran viaggio per otto settimane tutti martedì. Io ho la 126. Va bene, andiamo. Lascia un attimo, noi andiamo. Andiamo, arrivederci. E' tutto.